Stefano Allievi è professore di sociologia e anche membro del comitato scientifico di Festival Francescano. Abbiamo detto che questo festival doveva entrare nelle pieghe della società, parlare di fatti di dialogo concreti. Allora io vorrei portarle qualcosa che anche personalmente vivo tutti i giorni, un comune emiliano, un comune che ha avuto un boom economico legato al distretto, uno dei distretti più importanti industriali in Italia. C'è molta immigrazione in una scuola materna di 25 bambini, 10 hanno genitori che vengono da paesi stranieri. C'è molto rispetto, però questi bambini non mangiano alla mensa scolastica, non partecipano alle feste di compleanno. Allora si parla di integrazione ma l'integrazione si ferma al rispetto o forse vorrebbe essere qualcosa di più e perché forse ancora non la vediamo questa integrazione? Allora il problema è questo, che l'integrazione come diciamo nello spettacolo è come un matrimonio, cioè bisogna volerle in due, se no non funziona. Se l'immigrato vuole integrarsi ma la società non vuole o non è pronta o non è capace non funziona. Ci sono vari motivi per cui questo accade, perché tendenzialmente la gente si incontra proprio perché sei insieme all'asilo, sei insieme sul posto di lavoro, c'è un po' la diffidenza, la lingua, quando qualcosa c'è di nuovo effettivamente ci sorprende, ci stupisce. E poi c'è anche una lunga semina che ormai risale almeno una decina d'anni di odio, di rifiuto dell'altro, di mancanza di accettazione, di xenofobia, qualche volta di peggio insomma. E anche questo ha lasciato le sue tracce. Però normalmente io sono abbastanza fiducioso che le cose semplicemente accadono. Bisogna aiutarli i processi ma le cose accadono. Bisogna lasciarle accadere, questo succede. Anche un'altra cosa che raccontavano lo spettacolo, è vero, viene dall'esperienza di molti corsi di formazione agli insegnanti. I bambini giocano insieme. Mi ricordo una volta che mio figlio che è in una scuola con tanti ragazzi stranieri era uscito piangendo alle scuole elementari. Ho litigato, i papà vanno a prendere i figli. Con chi hai litigato? Lui mi diceva con quello là col maglione rosso. Quello là col maglione rosso era nero dal punto di vista del colore della pelle. Magari la mia generazione avrebbe detto quello là col colore più scuro di pelle. Lui ha detto quello col maglione rosso. Per lui è normale, però spesso dopo in quarta e quinta elementare le cose cambiano perché cominciano a ripetere quello che sentono in casa dai genitori. E qua c'è una responsabilità educativa su cui riflettere. Per molti la differenza non c'è ma diventa rilevante perché qualcuno la fa diventare rilevante. Però ci sono anche segni di speranza. Quando dicevo che molto più del 10% dei matrimoni è matrimonio misto ormai. Il 10% è la media italiana ma nel nord sono molti di più, in Emilia anche sono molti di più. Ci dà l'idea che le cose cambiano. Bisogna cambiare sguardo senza predicozzi, senza retorica. Aiutando però a far accadere le cose. Far accadere le cose vuol dire spesso cose molto semplici. Il dialogo interreligioso come il rapporto tra le culture inizia andando a mangiare una pizza insieme o andare a vedere la partita insieme e parlare di tutto tranne che di religione o di colore della pelle. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.